Il 30 maggio, Vigilia di Pentecoste, è stata celebrata presso la Cattedrale di Lucera, la Santa Messa del Crisma, presieduta dal Vescovo di Lucera Troia, Monsignor Giuseppe Giuliano, con la presenza del Presbiterio Diocesano. Tradizionalmente celebrata nella giornata del Mercoledì Santo, quest'anno l'emergenza coronavirus ha rimandato l'appuntamento di qualche settimana. Durante la Messa Crismale, i presbiteri rinnovano le promesse sacerdotali e il Vescovo benedice gli oli che vengono utilizzati nei sacramenti, l'olio degli infermi, l'olio dei catecumeni e il Crisma. Nell'Omeliamo, signor Giuliano, ha fatto riferimento al momento che viviamo e dunque all'epidemia di coronavirus, che ha provocato migliaia di vittime, con un pensiero particolare a chi ha perso la vita in solitudine e sofferenza. La pandemia, ha detto il Vescovo, ci ha portato e ci porta a riappropriarci della nostra umanità ferita, sanguinante, ma anche evoluta e salvata. Il pastore della Chiesa locale ha invitato a cogliere la bellezza della vita anche nei momenti più difficili. In riferimento alla Messa Crismale, Monsignor Giuliano ha rimarcato gli oli santi benedetti dal Vescovo attorniato dal suo presbiterio e affermano quel legame sacramentale che è indispensabile per rivivere e crescere nella Chiesa, così come il Signore Gesù l'ha pensata e voluta. Domenica 31 maggio, presso la Cattedrale di Lucera, il Vescovo di Lucera Troia, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, ha presieduto la celebrazione eucaristica per la solennità di Pentecoste. La festività ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, riuniti con la Madonna nel Cenacolo, avvenuta 50 giorni dopo la risurrezione di Cristo. Lo Spirito Santo è vita, invochiamo lo Spirito di Dio, ha detto Monsignor Giuliano nell'Omelia, perché ci doni la vita per il nostro corpo e la nostra anima, che ci doni guarigione dalla malattia e dal male, e ci doni salvezza dal peccato, affinché ci risseti, perché abbiamo bisogno di quell'acqua che ci risseti dalle nostre aridità. Domenica 31 maggio in Puglia sono stati registrati 1860 test per l'infezione da coronavirus e sono risultati positivi quattro casi, due nella provincia di Bari e due nella provincia di Foggia, e sono stati registrati quattro decessi, due in provincia di Bat e due in provincia di Bari. Sono 2813 i pazienti guariti, 1177 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi covid in Puglia è di 4.494-1.155 nella provincia di Foggia. La Puglia sarà tra le prime regioni d'Italia a sperimentare la app Immuni. Potrà essere uno strumento, spiega il professor Pierluigi Lopalco, dirigente del coordinamento per le emergenze epidemiologiche della regione Puglia, a supporto delle attività di contact tracing svolte quotidianamente dai dipartimenti di prevenzione nella lotta all'epidemia da Covid-19. La tecnologia utilizzata rispetterà la privacy degli utenti, dunque un soggetto che risultasse positivo al tampone sarà contattato dal medico di riferimento e si è scaricato la app Immuni invitato a segnalare la positività sul sistema. In quello stesso istante partirà un messaggio a tutti i possibili contatti avvenuti nei giorni precedenti che saranno invitati a rivolgersi al sistema sanitario per le valutazioni del caso. È iscritta all'ordine del giorno in Consiglio regionale la proposta di legge per impedire il passaggio della gestione rigua d'acquedotto pugliese. Confagricoltura Foggia si oppone con forza alla paventata ipotesi di distinguere i pagamenti del contributo di bonifica che concerne esclusivamente le opere di manutenzione e il pagamento del costo dell'acqua che andrebbe a gravare ulteriormente sulle spalle degli agricoltori. Non ci sarebbe alcun risparmio, anzi avrebbero l'aggravio del 10% di IVA in più sulle bollette e l'aumento dei costi dell'acqua con la gestione acquedotto pugliese, sostiene il presidente di Confagricoltura Foggia Filippo Schiavone. I consorzi di bonifica della provincia di Foggia costituiscono un patrimonio di esperienze e professionalità che aumentano la competitività del settore primario in una logica di sostenibilità ambientale, dichiara il presidente Schiavone, facendo riferimento al consorzio di bonifica montana del Gargano e al consorzio per la bonifica della Capitanata. I consorsi sani come i nostri non devono pagare per altri che non sono stati gestiti bene, conclude il presidente di Confagricoltura Foggia.